E allora buongiorno, buongiorno a tutti e benvenuti, mi raccomando iscrivetevi a questo canale se non siete già iscritti, condividetelo con tutti i tifosi, i calciofili, i parenti che conoscete, mi raccomando fate iscrivere, seguitemi sui social e seguite Surfasport, una pagina stupenda di calcio e altri sport che vi consiglio per rimanere assolutamente aggiornati su tutte le vicende in maniera assolutamente nostra, seguitela mi raccomando. Guardate i video fatti in precedenza, il cattomercato della Fiorentina per Vincenzo Italiano, l'ufficialità di Vincenzo Italiano, il ritorno di Dwight Polemismi sulla vicenda Ribery, il cattomercato fomentante del Cagliari, quest'oggi pomeriggio lasciamo finestra libera per eventuali ufficialità, devastanze, sentenze che dovessero capitare e questa sera commento Belgio Italia o Italia-Belgio che dir si voglia. Allora, quest'oggi è un video un po' particolare, un video di riflessione, un video di cogito, diciamo, un video di cogitazio, nel quale chiedo anche il vostro parere, perché sono due vicende, due vicende umane, come diceva il buon avvocato, che io fatico ancora a realizzare, fatico credere essere vere, fatico credere successe, fatico credere tangibili e fatico credere reali. Quindi avrò veramente bisogno del vostro aiuto, avrò bisogno di anche un vostro parere, su cosa ne pensate di queste due cose, che io veramente definisco due storte al cervello, che quando ci penso mi danno nei primi secondi una sensazione di straniazione, nelle prime frazioni di secondo una straniazione. Poi però realizzo e mi gasano e mi fomentano e mi perplimono, mi devastano proprio dentro. E sono due vicende storiche che si dipanano in due città bellissime, Venezia e Roma. Partiamo proprio da Venezia, la patria Venezia per me, no? E la prima vicenda che proprio mi causa una storta al cervello è il ritorno in Sarià del Venezia, signore. Dopo vent'anni, dopo vent'anni, Mario, qualcosa che veramente ancora fatico a realizzare, cioè dentro di me, quando penso al Venezia, ho ancora il riflesso incondizionato del pensare ad una società che deve prepararsi a fare un campionato di Serie B, un buon campionato di Serie B, per quelle piccole frazioni di secondo in cui mi dicono la cosa, no? Poi ci penso e dico, cazzo no, è in Serie A il Venezia, è in Serie A il Venezia. E io ancora fatico a realizzare, con questi play-off che abbiamo seguito live, trascinando in Serie A il Venezia, in dei play-off in cui c'erano squadre, voglio dire che tutti, anche a ragione, davano più attrezzate. Penso al Lecce, penso al Monza, sebbene pure con i dubbi che anche noi avevamo sul Monza, ma penso anche al Brescia e al Chievo, che in partita secca erano assolutamente due squadre che potevano creare dei problemi. E invece un Venezia, underdog, esiziale, arrivato quinto in campionato, che nessuno sostanzialmente cagava, è arrivato quinto, ha fatto i play-off e dopo 20 anni Mario è venuto in Serie A. Io ancora fatico a crederci, anche voi, se ci si pensa, l'anno prossimo si vedranno partite come Venezia-Milan, Venezia-Juve, Venezia-Inter, Venezia-Roma, Venezia-Fiorentina, Venezia-Udinese, partite che erano completamente scomparse dai radar, che chi avrebbe immaginato poter rivedere oggi, nel 2021, dopo 20 anni, in mezzo a delle peripezie di una società, che se si vedono, ma basti 5-6 anni fa era in Serie D, con tutti i cambi societari che ci sono stati, chi immaginava di vedere un Venezia a questi livelli? Sarà che io sono della zona, quindi magari sono particolarmente colpito personalmente, che è una squadra che ho seguito, un mio local team, diciamo, no? Però, signori, ancora fatico a realizzare che stiamo parlando di una squadra che l'anno prossimo vedremo in Serie A. Il Venezia in Serie A, signori. Il Venezia in Serie A. Oltretutto sono anche arrivati due giocatori nuovi, due giovani, sono arrivati Perez, che è il capitano della nazionale israeliana, che poi è la prosecuzione di Gianluca Castellano con altri mezzi, perché, che saluto, perché se voi guardate Perez è identico a Gianluca Castellano, ed è arrivato anche Ibuei dal Benfica, che è un giovane identico ad Asa Prochi. Quindi con due colpi esiziali, in attesa di quelle che saranno le operazioni che io credo ci saranno verso fine agosto, con il necessario domino delle operazioni di calciomercato, arriveranno anche profili esperti per la Serie A e da, diciamo, stabilizzare la squadra. Però nel frattempo sono arrivati anche Gianluca Castellano e Asa Prochi, come, diciamo, inserimento nel roster del Venezia che farà la Serie A. Io ancora fatico a crederci pensando alla Serie D, pensando anche all'ultima Serie B. Cioè è stato veramente il fatto di venire in Serie A dalla scorsa Serie B, è sembrato veramente un parto di una difficoltà, di una singolarità nell'azzeccare proprio i playoff fatti in questa maniera, ma un parto positivo, nel senso un qualcosa di difficilissimo, di impreventivabile anche per certi versi, che però è accaduto e io ancora fatico a realizzare. Non so voi, ditemi la vostra. Poi anche un'altra cosa che fatico a realizzare è Sarri alla Lazio. Cioè io penso a questa figura nostra, masserizia, questo uomo, diciamo, fatto come noi, uno di noi, diciamo, dal popolo, e tu pensi alla roboanza di Sarri, alle panchine su cui ce lo potresti vedere, e poi pensi, è andato alla Lazio, no? Che è forse una delle ultime squadre in cui ce lo metteresti pensando dove collocare Maurizio Sarri. Però hai all'inizio queste frazioni di secondo in cui neanche ti sembra vero che Sarri sia andato alla Lazio, no? Cioè, se mi dicono Sarri alla Lazio, ho quella frazione di secondo che dico, no, ma è fanta calcio, è fanta allenatoristica, poi ci penso un po' di più e dico, cazzo, cazzo, Sarri alla Lazio, signori. Cioè è una cosa, è veramente una storta al cervello. Ma una storta al cervello positiva, perché poi uno si pensa i vari Luisa Alberto, lo stesso Correa, che io per i laziali mi auguro resti, perché Correa-Sarri rischerebbe di essere un po' una ripetizione di quello che è stato Sarri di Bala, come cresci, Teresa e via dicendo. Pensi a Correa, pensi a Luisa Alberto, allo stesso Milinkovic-Savic, cazzo, però. Sarri alla Lazio è, fomenta, incuriosisce, c'è il misto tra l'esizialità della Lazio, tra il suo essere una società che negli ultimi anni è abbastanza slim, abbastanza discreta, abbastanza lavorante più sullo sconosciuto che sul conosciuto valorizzandolo, affiancata a questa improvvisa roboanza di Sarri, questo incrocio masserizio, diciamo, questo rude incrocio che fomenta, che gasa. E anche perché sono due cose, quelle del Venezia, specialmente per il noto agire della lobby antiveneta, ma anche di Sarri alla Lazio, tutto sommato, che non è che si sia parlato molto nei media, che danno più risalto alla Juve con Locatelli, Allegri, Ronaldo, le solite cagate, diciamo, la situazione dell'Inter e il Milan. Di queste due cose, che anche, permettetemi, se si parla di allenatori, nel giro anche antinostro che c'è stato di allenatori, perché pensi a allenatori di ribollita che sono stati chiamati dopo essere mandati via, squadre anche grandi che devono fare i conti con il portafoglio, che chiamano allenatori, diciamo, non di primissimo pelo, allenatori come Spalletti, Napoli, che se ne parlava da sei anni. In questo giro ho, per esempio, Gattuso alla Fiore... Ecco, in questo giro, a mio avviso, anche piuttosto antinostro, di allenatori, la pepita, l'incastonamento di Sarri alla Lazio ancora mi causa una storta al cervello, così come anche il Venezia in Serie A me la causa, signori. Cioè, sono... Quella di Sarri alla Lazio l'ho realizzata, però è veramente una storta al cervello. Quella del Venezia in Serie A devo ancora, per certi versi, realizzarla ed è una cosa ancora che dico, cazzo, ma veramente il Venezia in Serie A? Veramente, l'anno prossimo assisteremo al Venezia in Serie A, con tutto quello che questo ne comporta, a livello anche di attenzione, di presenza sui media, di commento alle partite, di verifica della stessa squadra, società, ambiente, con piazze di primissimo piano e di primissimo pelo. Ecco, ditemi anche la vostra, perché... Aiutatemi! Io vi chiedo di aiutarmi a realizzare queste due cose che io ancora non ho... Non ho... Non ho pienamente realizzato. Ditemi cosa ne pensate, un caro saluto!